Natale sicuro a Padova, in prefettura, si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che ha coinvolto il prefetto di Padova, Raffaele Grassi, insieme al sindaco Sergio Giordania, l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina e tutte le forze dell'ordine per mettere a punto un piano di controlli straordinario nei luoghi che tradizionalmente durante le festività natalizie saranno più affollati. Sorvegliati speciali dunque i luoghi di culto, i centri commerciali, il centro storico di Padova con i suoi mercatini, la stazione ferroviaria e mezzi di trasporto. Ma non solo, in vista del Capodanno monitorate tutte le attività in cui si vendono fuochi d'artificio per prevenire la vendita di materiale pirotecnico illegale e potenzialmente pericoloso per la popolazione. Sempre a ridosso di San Silvestro, particolare attenzione sarà rivolta a intercettare ed evitare l'organizzazione di rave party, soprattutto nel territorio della provincia. Misure di sicurezza verranno messe in atto anche per tutelare la buona riuscita del concerto di Capodanno in piazza Insurrezione che vedrà l'esibizione di Max Gazzè. Al comitato in prefettura ha partecipato anche la polizia stradale perché sono stati disposti controlli sulla rete stradale e autostradale nei giorni di maggior spostamento. Disposto anche il piano neve in caso di maltempo con la disponibilità di mezzi e materiali da mettere in campo in caso di necessità. Grazie a tutti.